Internazionalizzazione e potenzialità di sviluppo industriale in vista dell'Expo 2015 di maggio e della crisi delle principali aziende molisane. Abbiamo avvicinato l'assessore alle attività produttive della regione molise Massimiliano Scarabeo a margine del convegno di Isernia organizzato dalla Camera di Commercio per discutere proprio delle potenzialità delle aziende nella proiezione su mercati esteri della presenza molisana all'Expo 2015 della regione molise. Allora, assessore Scarabeo, si parla di internazionalizzazione oggi per esorcizzare la crisi delle noti aziende molisane in difficoltà. L'impegno, vediamo, del suo assessorato è costante e quotidiano nell'affrontare le principali criticità. Si può guardare al futuro con moderato ottimismo oggi? Mentre prima poteva essere una velletà da parte delle imprese, non solamente molisane, ad operare oltre confini nazionali, io ritengo che in questo momento sia diventato un fatto indispensabile. Noi oggi iniziamo ad essere cittadini del mondo, è chiaro, valorizzando i nostri prodotti, valorizzando il made in Italy che in qualche modo riesce ancora a mantenere alta l'attenzione verso quello che è il brand, il nostro tricolore, in maniera abbastanza importante. Il credito è uno degli elementi principali, fondamentali, in un momento drammatico come questo di vera e propria recessione, accompagnare le imprese, uscire fuori da quella che poteva essere una logica appartenente ad altri tempi con il conto capitale, finanziarle a tasso di mercato, con tassi agevolati, deprestiti, in qualche modo incentivare soprattutto quel tessuto produttivo che ha voglia di mettersi in discussione. Ed è chiaro che l'internazionalizzazione è fondamentale, quale migliore occasione come l'Expo 2015, aver già rappostato 523 mila euro utili appunto a sostenere quelle che sono le imprese molisane nel semestre che va da maggio ad ottobre a Milano, ma soprattutto insomma in qualche modo cercare di incentivare non solamente il mondo imprenditoriale, ma anche i professionisti, i giovani emergenti, i nostri talenti ad andare e poi tornare. Quindi quel vado e torno, quel bando che abbiamo messo in campo, che ha avuto una partecipazione straordinaria di oltre 300 giovani neolaureati molisani, credo che sia da sprono per tutti quanti noi a cercare di fare meglio rispetto ai periodi precedenti. Il suo intervento ha fatto riferimento anche alle 3T? Sì, Tintilia, Tartufo e Tratturo è un fuorisalone che abbiamo voluto finanziare interamente con risorse regionali pari a 100 mila euro, credo che ci sia un'opportunità, un'opportunità da sfruttare anche al di fuori proprio dell'Expo, quindi in quella che è la metropoli, la nostra Milano, centro e core business non solamente italiano ma anche del centro Europa, una centralità che porterà oltre 20 milioni di visitatori. Lei ha detto che in questi giorni sta facendo un po' da procacciatore d'affari per risolvere un po' le crisi, soprattutto quelle del tessile in provincia di Sernia. Guardi, ce la stiamo mettendo tutta, insomma, in primis il Presidente della Giunta regionale, il sottoscritto è chiaro, ci stiamo sostituendo a quello che in qualche modo dovrebbero fare, e questo lo dico, insomma, senza polemica alcuna, in maniera costruttiva, chi oggi è deputato a gestire i consorsi industriali e quindi anche quella riforma, una riforma che va a creare una sintesi tra quello che è rimasto, dei vari nuclei operativi che partono da Venafro per finire a termoli, credo che in qualche modo sia un significato forte che noi vogliamo dare a quest'azione di riforma che abbiamo messo in campo. Sì, ci sono delle proposte, delle proposte che siamo riusciti a far fare indirettamente, insomma, a quella che la struttura commissariare è al Tribunale competente, un lavoro di squadra fatto con dei professionisti molisani e quindi ci siamo ritrovati con tre gruppi solidi, di due investitori importanti come i KF Europa Investment e con il gruppo Ammaturo. Abbiamo altri tipi di investitori e contatti disponibili a venire nella nostra provincia, nell'agro di Pettoranello, presso i rustici modulari. Mi auguro che finalmente ci sia la sottoscrizione di un primo rapporto di collaborazione diretta dell'imprenditore di riferimento con il comune di Pettoranello e successivamente concretizzare qualcosa nell'agro di Sessano. Noi ce la stiamo mettendo tutta, stiamo andando anche oltre quelle che possono essere le competenze e sono sicuro che ce la faremo.